La strada Paratore, arteria di collegamento tra la scorrimento veloce di Rocca di Caprileone e il territorio di Galatima-Mertino, è stata al centro del dibattito politico. L'opposizione ha evidenziato le interruzioni stradali e le questioni legate ai sottoservizi e al passaggio dei tubi del gas. Per la comunità montana, quella è la strada più agevole per il collegamento Montemare, dunque ha un valore strategico perché il territorio possa essere raggiunto anche in binor tempo. Ora la risposta del sindaco Vincenzo Amadore. Per questa strada l'attuale opposizione che ha governato il paese prima di me forse non ha mosso un dito. Ora in questi ultimi anni noi siamo in contatto costante con l'impresa, infatti ci saranno degli interventi risolutivi in questi giorni. Se voi sicuramente avete fatto questa strada salendo e avete visto che già sono in corso interventi di decespugliamento e manutenzione della strada, e vi dirò di più, siamo in costante contatto con la città metropolitana di Messina, stiamo predisponendo tutti i documenti, vari esprovi per la cosiddetta provincializzazione della strada Paratore, anzi quella che da Galatino a Mertino arriva a Due Fiumare, perché l'altro tratto è stato provincializzato da breve. Quindi siamo ovviamente al lavoro su questo e su tanti altri fronti, anche su tante altre strade di collegamento nel nostro territorio, che ricordiamo molte sono strade provinciali. ma non per questo noi non stiamo collaborando con la città metropolitana di Messina, perché ovviamente quando si parla di turismo dobbiamo far sì che il nostro paese sia ben collegato. Molte volte dipende da noi, la maggior parte delle volte dipende da enti che sono sopra le nostre teste, però noi non ci arrendiamo, siamo costantemente al lavoro. Quindi mi sento di rassicurare in questo caso l'opposizione, che ovviamente espleda il suo ruolo, ma mi sento di rassicurare i miei concittadini e tutti quanti vogliono e scelgono e sceglieranno Galatino a Mertino per passare le loro vacanze.